eccoci qua eccoci qua tornata domenica insieme siamo sempre noi siamo sempre più carichi e adesso ci occuperemo di diete di alimentazione che ne abbiamo bisogno ma non tanto per la dieta insieme ma per capire come si deve mangiare daremo delle indicazioni svederemo soprattutto dei falsi miti su cibi considerati buoni o cattivi e lo faremo con un ospite che tra pochissimo vi voglio presentare prima guardiamo questo video e diamo il benvenuto alla dottoressa valeria galfano dietologa non biologa dietologa e nutrizionista e anche sportivissima come abbiamo appena visto ben buon pomeriggio benvenuta buon pomeriggio buon pomeriggio valeria ma scusa perché allora questa volta noi non non facciamo non ci alleniamo perché raccontiamo una volta ci siamo allenati in studio con una sportiva però lei è nutrizionista quindi ci darà dei consigli noi li metteremo in pratica poi tornerà a trovarci ci alleneremo perfetto allora facciamo esatto prossima volta uniamo tutto no due piccioni con una fava allora valeria facci comprendere come è il giusto corretto modo di mangiare no perché io posso dire con il lavoro no lo stress magari un giorno mangi tanto magari un giorno mangi pochissimo è normale questo che appunto questa cosa che può avvenire effettivamente per lo stress quotidiano sì quello che dici tu è proprio vero non a caso è la richiesta più frequente dei miei pazienti che mi fanno quando vengono a trovarmi insomma nel mio studio proprio perché quando io parlo di dieta non intendo mai un'alimentazione restrittiva una sorta di punizione qualcosa che ti va a privare del piacere anche di mangiare al contrario dieta è semplicemente un sinonimo di sano e corretto stile di vita e quindi non deve mai andare a interferire con né con il benessere della persona neanche con le abitudini quotidiane come dico io non deve essere il paziente ad adattarsi alla dieta ma esattamente il contrario è la dieta che deve adattarsi al paziente seguo tantissimi pazienti che magari lavorano con dei giorni di notte quindi hanno proprio un alterato rapporto sonnoveglia questo va beh a parte che va a modificare proprio tutto il pattern di secrezione ormonale può essere un po un disagio per quanto riguarda il seguire una dieta schematizzata però anche in questi casi non c'è nessun problema proprio perché riusciamo è possibile tranquillamente fornire un piano dietetico bilanciato corretto e soprattutto personalizzato anche per chi riesce ad invertire il giorno con la morte o anche per chi ha pochissimo tempo da dedicare alla preparazione dei cibi che sembra semplicissimo questa cosa seguire una corretta alimentazione invece poi nei fatti è complicatissimo iniziamo a svelare un po di cose e partiamo dalla paura dei carboidrati si può mangiare pasta tutti i giorni guardiamo la prima immagine ecco speriamo possiamo farlo assolutamente sì anch'io da da atleta e anche durante la preparazione di una competizione agonistica mangio pasta tutti i giorni cos'è che bisogna considerare bisogna considerare ovviamente la giusta quantità che non è una quantità unica è uguale per chiunque dipende da da tantissimi fattori dal proprio fabbisogno calorico dipende da anche dalla fase della preparazione agonistica dipende da eventuali patologie che determinano un diverso diciamo fabbisogno di diversi nutrienti in ogni caso mi sento di poter assicurare tutti dicendo che la pasta è un alimento che caratterizza la nostra dieta che poi è la classica dieta mediterranea può essere tranquillamente mangiata tutti i giorni e come un po magari avete visto sui social diffondono le faccio un po di divulgazione parlo di queste cose ho creato appunto un post in cui scrivo che noi abbiamo sei cibi che sostituiscono la pasta sono molti di più ne ho messi sei solo per una questione di sintesi non perché la pasta non possa essere mangiata tutti i giorni anzi il contrario molto più semplicemente perché più una dieta è varia e più è corretta sia dal punto di vista nutrizionale perché tutti i vari alimenti possono anche avere lo stesso apporto calorico possono avere anche lo stesso apporto dei diversi macronutrienti quindi carboidrati grassi e proteine però ogni alimento ha un diverso apporto di micronutrienti quindi quali sono questi sei cibi che possiamo sostituire alla pasta possiamo utilizzare le patate il riso io mangio sempre riso praticamente possiamo utilizzare riso possiamo utilizzare qualsiasi altra fonte di carboidrati come ad esempio tutti i cereali il farro l'orzo la quinoa il couscous esatto il couscous ma io volevo chiedere è giusto mangiare sia a pranzo che a cena la pasta perché molto spesso ti dicono mangiala a pranzo e a cena magari un'altra cosa no? prediligi le proteine in realtà non c'è nessuna indicazione clinica a fare questa scelta sia perché tutti gli alimenti e quindi anche i cereali contengono le stesse identiche calorie sia se le mangiamo a colazione che le mangiamo a pranzo che le mangiamo a cena qualsiasi elemento rimane lo stesso a prescindere dall'ora del giorno della notte in cui lo assumiamo poi magari in determinate condizioni cliniche ci possono essere alcune preferenze magari nel caso di diabete di insulino resistenza così come ne parlo poi nel libro che ho scritto che è preferibile magari consumare la maggior parte delle calorie nella prima parte della giornata piuttosto che nella seconda parte della giornata però a prescindere dalle situazioni cliniche dalle situazioni patologiche possiamo tranquillamente mangiare i famosi carboidrati che bello mangiamo carboidrati come se non ci fossero ovviamente non come se non ci fossero perché se no vai in contrasto a tutto quello che la dottoressa ci sta seguendo la cosa è più importante perché c'è sempre questo mito la pasta integrale fa meglio e più buona di quella come possiamo dire normale farina zero zero di quella non integrale di quella non integrale è vero è vera questa cosa dipende sotto che punto di vista analizziamo la cosa i miei pazienti quando faccio l'anamnesi alimentare mi dicono dottoressa si mangio la pasta è ma quella integrale ok allora vediamo un attimo intanto sottolineiamo il fatto che hanno le stesse identiche calorie quindi mangiare la pasta integrale non vuol dire ne posso mangiare una quantità infinita tanto è integrale no anche in quel caso va sapientemente dosata d'altro canto perché scegliere l'integrale perché è migliore dal punto di vista salutare contiene tanta fibra alimentare la fibra è proprio quel componente della nostra alimentazione che regola la funzione intestinale che ci mantiene più sazi a lungo che ovviamente previene il senso di fame e quindi possiamo tranquillamente qualora diciamo il nostro gusto personale lo premetta scegliere prevalentemente cereali integrali piuttosto che la variante tradizionale non integrale sapendo di fare un bel regalo alla nostra salute perfetto questa cosa è un falso mito che abbiamo come detto detto perché appunto molte persone come diceva lei pensano che la pasta integrale a prescindere faccia meglio di quella non integrale un altro falso mito no perché quando si è a dieta magari si pensa che il gelato non lo si possa mangiare è giusto e corretta questa cosa inizio dicendo che non esiste nessun alimento che fa ingrassare e non esiste nessun alimento che fa dimagrire dottoressa noi la amiamo però così cioè possiamo mangiarlo il gelato sì wow poi dipende perché a volte io mangio 750 grammi di gelato allora lì è sbagliato quando si ricerca diciamo un dimagrimento bisogna sempre calcolare la quota calorica totale giornaliera quello che chiamiamo bilancio energetico quando noi introduciamo meno calorie rispetto a quelle che bruciamo a quelle che consumiamo allora il peso corporeo scende viceversa se introduciamo più calorie rispetto a quelle che consumiamo ovviamente il nostro peso corporeo sale quindi in quest'ottica è possibile inserire all'interno della nostra alimentazione idealmente qualsiasi alimento purché ovviamente facciamo una sorta di bilancio tra quegli alimenti che hanno delle caratteristiche nutrizionali chiamiamole così un po più salutari rispetto a quegli altri alimenti che magari presentano un eccesso di zuccheri un eccesso di grassi saturi che va bene mangiarli ma è bene farlo in maniera limitata quindi chi mi chiede dottoressa posso mangiare il gelato a dieta sì che bello che bello allora come mai dottoressa non me lo inserisce quotidianamente nella mia dieta perché bisogna valutare tantissimi aspetti dell'alimento tra cui anche il potere saziante quindi ricordiamo che un gelato per quanto possiamo andare a bilanciare bene le calorie non ha un elevato potere saziante quindi magari se facciamo uno spuntino facciamo sostituiamo un pasto con il gelato è vero che possiamo capire quante calorie stiamo introducendo è anche vero però che magari dopo pochissimo tempo ci ritorna quel senso di fame quindi abbiamo di nuovo voglia di mangiare in quel caso sforiamo con le nostre calorie troppo tra un gusto alla frutta e un gusto più crema cioccolato di staccia eccetera eccetera cosa dovremmo preferire una volta che si è a dieta quello che ti piace come favore no anch'io sempre sempre le creme io scelgo il gelato alla frutta perché contiene meno calorie no perché comunque può avere anche più zuccheri no tutto sommato se noi lo dobbiamo interpretare come un qualcosa che ci dà piacere come un qualcosa che ci permette anche di seguire la dieta in modo duraturo nel tempo quindi la famosa sostenibilità della dieta a lungo termine ebbene allora a quel punto scegliere un alimento che ci rende più soddisfa certo adesso parliamo del momento in cui si comincia a fare sport e si pensa che ci sia bisogno di mangiare più proteine è vera questa cosa vanno preferite le proteine carboidrati no non del tutto quando solitamente una persona che magari prima fino a quel momento era stata sedentaria inizia a intraprendere un percorso sportivo pensa di dover stravolgere completamente la propria alimentazione inizia a fare un po delle sciocchezze dal punto di vista nutrizionale elimine immediatamente carboidrati inizia a mangiare un eccesso di proteine io ogni volta che inizio in palestra sbaglio sbaglio io sono molto pro ai carboidrati cioè non sto in piedi se non li mangio quindi è sbagliata questa cosa è sbagliata fare un eccesso anche nel caso dell'alimentazione sportiva la dieta deve essere perfettamente bilanciata quindi cosa cambia fondamentalmente tra un'alimentazione per un soggetto sportivo e l'alimentazione per un soggetto sedentario intanto il fatto che l'alimentazione per il soggetto sportivo ha bisogno sicuramente di più calorie per andare a coprire insomma il maggior dispendio energetico dovuto agli allenamenti un fabbisogno idrico aumentato perché ovviamente l'attività sportiva ci fa sudare e quindi è necessario andare a reintegrare poi è vero che il rapporto tra i macronutrienti cambia in base al tipo di sport praticato in base all'intensità dell'allenamento che si sta che si sta eseguendo però un conto è quando parliamo dell'atleta amatoriale che magari va in palestra quelle due tre anche quattro volte a settimana un conto è quando parliamo invece di un atleta agonista che fa degli allenamenti veramente proprio a livello professionale quindi molto stancante e che lì sì che effettivamente richiesto diciamo un fabbisogno diverso di nutrienti e a questi vanno aggiunti degli integratori e se sì soprattutto quali su questo argomento c'è tanta tanta confusione e soprattutto tantissimo marketing perché se scrivete qualsiasi integratore su internet vi esce insomma una proposta commerciale che è veramente infinita dobbiamo andare a capire intanto cosa significa integrazione alimentare integrazione appunto cosa si va a integrare si va a integrare un'eventuale carenza nutrizionale quindi l'integratore non si dà così semplicemente per sentito dire bisognerebbe fare delle specifiche analisi del sangue vedere se ci sono delle carenze da andare a colmare allora in quel caso è giustissimo andare a integrare la nostra dieta con un prodotto con una formulazione chimica ci sono alcuni integratori che invece noi non abbiamo una carenza però possono aiutarci nella prestazione sportiva ma sono veramente pochi quelli che a livello clinico hanno rivelato un vero e proprio beneficio ad esempio la creatina la caffeina e in realtà pochi altri io invece volevo parlare no le pongo il mio caso perché mamma e papà ascoltate bene questo che so quello che la dottoressa da dirmi perché io nella mia alimentazione ho tolto la carne ma mangio sempre il pesce che comunque quindi non sono vegetariana però eliminato completamente qualsiasi tipo di carne rossa bianca affettate eccetera eccetera no è giusto è possibile a nel 2022 avere un questo tipo di alimentazione se bilanciata con legumi e quant'altro assolutamente sì il problema è che lo stiamo capendo solo nel 2022 avremmo dovuto farlo già tanti tanti anni prima meno carne mangiamo e più facciamo diciamo la cosa giusta sia per la nostra salute sia anche per la salute dell'ambiente d'altro canto esistono tantissime altre varianti per poter raggiungere il nostro fabbisogno proteico se no in quel caso insomma basti pensare a chi segue una dieta di tipo vegetale insomma non sono persone che stanno male non sono tutti in carenza proteica anzi su tantissimi fattori tra cui ad esempio il colesterolo plasmatico la pressione arteriosa chi segue una dieta su base vegetale ha veramente un vantaggio su questi aspetti clinici e non è l'unica perché noi abbiamo una testimonianza in questo senso diversa perché lei è vegana a tutti gli effetti le vogliamo dare il benvenuto Elena Tubertini che è la nostra collega lavora qui la vediamo tutti sabato sera in prima serata proprio sul 264 con i The Cerebros benvenuta ciao Elena grazie buon pomeriggio dove sei che bello averti qui sono a casa grazie allora Elena sto parlando della dieta che poi appunto uno può scegliere tra quella vegetale vegana carnivora eccetera eccetera tu appunto segui una dieta vegana non sei in carenza immagino di nessun tipo come dire di alimenti di vitamine di nutrienti e tu ti trovi bene con questa tipologia di dieta assolutamente si si ha conferma anche di quello che diceva la nutrizionista io sono vegana da due anni trovo super simpatico il fatto che nel sottopancia si è scritto vegana dopo il mio nome questa specie strana che ancora dobbiamo studiare che stiamo studiando l'incubo di tutti i ristoratori però da due anni a questa parte sto seguendo questa dieta vegana e questa alimentazione vegana già prima ero vegetariana e devo dire che la mia vita è migliorata sotto molti punti di vista le analisi per esempio sono migliorate io sono sempre stata carente di ferro e invece sono migliorata con l'assunzione di legumi quotidianamente così come anche il tofu il seitan insomma proteine vegetali e quindi questa è la mia esperienza anche la pelle e i capelli sono migliorati a dir la verità dottoressa è vero ci sono dei miglioramenti anche sulla pelle sui capelli è vero è vero ci sono tanti studi che lo confermano quindi possiamo dire a tutti quanti che la dieta vegana è corretta ovviamente uno deve inserire tutto perché effettivamente magari non mangiando neanche i formaggi giusto perché non mangia neanche i formaggi bisogna stare attenti un po ad alcune carenze vitaminiche però quando una dieta vegana viene eseguita comunque da un professionista della nutrizione che prescrive le dovute analisi e fa attuare la giusta integrazione non c'è nessun rischio per la salute anzi proprio il contrario esatto Elena ci dici un piatto tuo preferito vegano che possiamo riprodurre tutti quanti allora sì partiamo dal tofu per esempio che è un alimento che viene distrattato da chiunque in realtà bisogna solo imparare a cucinarlo perché prende il sapore delle dei cibi con cui lo accompagni di base quindi si può piastrare dopo questa è una tip se molto importante vai vai asciugarlo il tofu quando si apre si perché è bagnato sta nell'acqua esatto bisogna asciugarlo con un panno dopodiché si può piastrare e cucinare insieme alle verdure fare una caponata di verdure e tofu oppure si può lasciare marinare qualche ora non so nella salsa di soia o con i semi di lino per esempio per assumere gli omega 3 e poi dopo si può passare in forno per asciugarlo seccarlo e farlo diventare un po crocchetta un po nuggets vegano ecco buono mi piace lo dobbiamo provare dottoressa il tofu va bene come alimento sì sì anche se il mio piatto vegano preferito è pasta e fagioli posso dire il mio piatto vegano preferito pasta e pomodoro salsa di pomodoro no formaggio no perché no stavo già andando oltre pasta e pomodoro e basilico sono di tutti il più semplice di tutti no non si direbbe perché ci sono ancora 30 gradi ma manca pochissimo a natale e quindi dobbiamo cominciare a prepararci perché come dobbiamo prepararci ad affrontare le feste perché noi mangiamo mangeremo qualsiasi cosa e lei invece qui ci dice cosa possiamo mangiare cosa invece assolutamente non dobbiamo toccare mi tolga il panettone perché se no questo intero visto se guardiamo l'immagine il panettone sta sia nel lato corretto del post sia nel lato sbagliato del post quello che cambia è semplicemente l'atteggiamento con cui lo mangiamo semplicemente senza nessun senso di colpa se poi andiamo ad analizzare alla fine natale quando è che mangiamo il 24 sera e il 25 a pranzo tutto sommato se noi seguiamo un'alimentazione corretta per tutto l'anno non saranno certo quei pochi giorni di festa ad andare a rovinare il nostro stato di salute anzi che ben venga consumare un pasto in famiglia che ben venga a celebrare le feste insomma possiamo tranquillamente mangiare quello che c'è a disposizione sulle nostre tavole e noi in italia insomma cuciniamo benissimo senza nessun senso di colpa e cosa ha tolto da quella slide di prima da quella immagine di prima perché c'era qualche no cos'è che non dobbiamo assolutamente il senso di colpa quindi possiamo mangiare tutto Elena tu appunto che sei a natale immagino no quando tu dici ai parenti sono vegana come ti guardano come un'aliena ma ormai ci hanno fatto l'abitudine però i primi anni per i primi periodi è stato difficile mia nonna ha quasi tolto il mio nome dall'eredità immagino fermarsi di un po di pazienza e anzi controbattere portando del cibo preparato da casa e far assaggiare i parenti e dimostrare che anche il cibo vegano può essere natalizio e buono oh bello bello mi piacerebbe un giorno una volta facciamo un Natale tutto essere invitata allora noi abbiamo i libri guarda abbiamo i libri che ha scritto la dottoressa guida al controllo glicemico e le 100 ricette per il benessere la forma fisica della dottoressa questo è già uscito questo ancora no sono usciti tutti questo è stato pubblicato con la casa editrice edra questo invece l'ho pubblicato da sola quindi questo lo troviamo insomma in libreria invece il mio il tuo ok e io invece voglio questo le 117 così poi prendo questo ancora non è libreria in libreria non ci sarà è possibile già acquistarlo su amazon su amazon c'è un ultima slide che vogliamo vedere insieme la dieta non rappresenta il tuo valore che un po il suo motto però esatto sì sì purtroppo siamo stati abituati dalla nostra società che dobbiamo essere a tutti i costi magri belli e perfetti in realtà noi valiamo molto più di quello che ci dice la nostra bilancia e questo la dice lunga anche su tutto l'aspetto legato ai disturbi del comportamento alimentare l'anoressia nervosa la bulimia i disturbi sotto soglia che quando parliamo di salute non dobbiamo pensare solo a quella fisica ma anche a quella psicologica assolutamente dottorista già due pazienti nuovi e poi deve venire ritornare perché ci tre anche ritornare perché ci deve far vedere perché abbiamo visto anche sportivissima la prossima volta ci alleniamo insieme ci alleniamo insieme Elena la prossima volta si viene a trovarci con una bella ricetta una torta vegana vi porto una torta Elena però aspetta ieri sera puntata incredibile di fattacci cosa ci aspetta sabato prossimo perché sabato tornate alle 21 proprio qui sul 264 dici qualcosa non posso spoilerare troppo una notizia posso citare un social che più che un social è molto famoso non so se vi risulta qualcosa ogni fan sabato prossimo a che ora ricordalo Elena alle 21 sempre alle 21 su 264 grazie grazie Elena grazie a voi mi raccomando la torta ricordatela ciao grazie ciao ciao grazie dottoressa grazie a voi è stato un bellissimo ci ha lucidato su tantissime cose e anche nostri spettatori ovviamente grazie 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 noi adesso ci fermiamo e tra pochissimo torniamo restiamo in tema salute restiamo in tema salute passiamo dalla dieta alla bellezza alla bellezza a tra poco grazie a tutti 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 grazie a tutti